eccoci eccoci in diretta buongiorno ben arrivati a tutti in questo webinar del sabato mattina con me c'è ovviamente antonio che saluto buongiorno antonio buongiorno a tutti buongiorno arduino buongiorno buongiorno a tutti noi tra l'altro abbiamo comunque una sorpresa quest'oggi perché abbiamo un po di ospiti però parliamo con calma le varie presentazioni e quindi avrete la possibilità non solo di parlare con me con antonio ma anche con altre persone che sono studenti dell'accademia sono dei alcuni sono già anche dei trader alcuni lo stanno diventando però prima di partire anto di cosa parleremo oggi cosa perché siamo qua perché siamo qua è perché un anno fa ci siamo imbarcati in questa avventura dell'accademia no da un lato è stato è parecchio impegnativa ovviamente per chi si è iscritto all'accademia per chi è aderito ma anche per noi perché per chi lo sa tanto ne parleremo più tardi tra poco è un percorso abbastanza strutturato e quindi è praticamente quasi one to one potremmo anche togliere il quasi e quindi in base a questo era un anno fa era un progetto era un'idea un po pazza che ci è venuta in un certo senso e che poi abbiamo messo in atto subito hanno aderito un numero anche abbastanza grande di persone che hanno fatto un po anche da cavia in un certo senso no che ci hanno creduto subito e e poi insomma ecco più tardi poi sentiremo qualcuno di loro che magari ci dirà come è andata cioè adesso un anno sinceramente noi stiamo almeno a livello di diciamo nostro stiamo raccogliendo i frutti eh attraverso quello che poi sentiremo tra poco da parte loro direttamente quindi non lo dico io non mi diranno loro eventualmente infatti noi siamo molto contenti e soddisfatti perché abbiamo visto un processo di crescita costante praticamente da parte di tutti gli iscritti e questo è molto molto interessante quindi eh diciamo che da questo punto di vista il progetto è pienamente pienamente riuscito eh forse è andato anche oltre quello che potevano essere anche le semplici aspettative nostre vero vero e quindi di questo siamo siamo molto molto contenti talmente contenti in effetti che quest'oggi abbiamo deciso di trovarsi qui proprio perché come hai detto tu prima proprio circa un anno fa eh adesso non ricordo esattamente il giorno ma eravamo più o meno in questi giorni dell'anno scorso eh abbiamo presentato tramite sempre un webinar questo questo nuovo percorso eh di Accademia ormai la parola Accademia probabilmente è anche un po' inflazionata no soprattutto nel trading però ci sembrava il termine più corretto per definire quello che in effetti avevamo pensato come percorso eh perché come potete vedere nella pagina che trovate sul sito yearforex eh ci sono praticamente vabbè eh tutta la parte mh teorica eh tecnica mh del mindset del di tutto quello che riguarda i corsi del sito più mh chi fa l'accademia poi magari ne parleremo anche tutte le giornate che noi facciamo eh dedicate all'autoconsapevolezza del trader che sono tre e durano tre giorni l'una eh tra l'altro tutti gli studenti dell'accademia hanno eh sempre la gratuità nei diciotto mesi del percorso accademico eh tutti gli eventi straordinari che vengono fatti penso a trading come azienda dello scorso gennaio penso ad altri eventi che possono essere online o offline eh durante l'anno ehm loro ovviamente eh essendo nell'accademia devono cercare di essere presenti per sempre no essere al passo e eh migliorare no quelle che sono le competenze ma la cosa bella è che proprio abbiamo non è un'accademia come oggi si usa no spesso accademia accademy vengono usati questi termini e poi è un corso in realtà l'accademia è proprio un percorso di studi che ha una durata appunto di diciotto mesi ma che può durare anche fino a ventiquattro per alcune persone che magari sono un po' più lente e quindi vanno leggermente fuori dal parametro dei diciotto mesi eh e quindi essendo un percorso ha dei dei passi delle come dire delle fasi eh che sono teoriche sono esperienziali e quindi e all'interno di queste fasi ci sono appunto tutti questi corsi questi esercizi che vengono svolti ci sono queste coaching queste call one to one ci sono degli webinar ci sono appunto delle delle fasi che eh vengono le abbiamo decise di eh incastrare in questo percorso perché pensavamo fosse il modo più corretto per acquisire sempre meglio il nostro metodo di lavoro e eh e devo dire come diceva in effetti Anto che in quest'anno eh già anche se non sono ancora passati i primi diciotto mesi quindi ancora nessuno è uscito dall'accademia nel senso uscito eh che ha concluso ecco il percorso però in effetti possiamo dire che già eh dai primi mesi eh dell'anno scorso quindi noi abbiamo iniziato con le primi primi accademia si sono iscritti subito quindi a fine aprile eravamo già partiti primi di maggio eravamo già partiti con i primi ma già non so a fine giugno primi di luglio già iniziavamo a vedere dai primi esercizi delle eh dalle prime correzioni di alcuni esercizi già un diverso modo di eh fare a livello tecnico ma anche probabilmente di eh porsi all'abitudine no di fare determinate azioni che poi è anche una delle cose che noi spingiamo a fare infatti no quando la persona arriva non so per esempio alla fine della parte tecnica prima di fare la prova ci dà per svariate settimane sempre il piano di trading di fine settimana e noi lo dobbiamo vedere proprio per creare quell'abitudine ma in realtà poi ci sono tantissimi altri aspetti molto interessanti però oggi non vogliamo parlare solo del fatto che ha eh l'accademia eh com'è l'accademia tanto bene o male ormai abbiamo già fatto alcune live alcuni webinar su questo potete comunque trovare eh all'interno del sito nella pagina eh nel menu trovate proprio la scritta accademia e cliccando trovate tutte le caratteristiche l'accademia potete comunque contattarci per capire meglio di cosa si tratta oggi diciamo che abbiamo voluto fare una cosa un po' diversa e eh di parlare dell'accademia da chi non la propone quindi da me e da Antonio ma in realtà da chi la sta eh la sta vivendo e in questo in questo caso siccome stiamo non correggimi se sbaglio Anto oltre venti comunque oltre venti dell'accademia adesso non il numero esatto non ricordo quanto è in accademia però siamo a ventitré ventiquattro ventitré ventiquattro perfetto di cui alcuni eh ci sono proprio dal giorno uno alcuni ci sono da qualche mese eh in realtà alcuni sono eh studiosi con noi di Artforex quindi sono nostri corsisti da addirittura da tanti anni e alcuni invece magari da qualche anno solo quindi abbiamo deciso addirittura alcuni da qualche mese abbiamo deciso questo oggi di invitare perché in effetti noi avremmo invitato tutti diciamo la verità però in questo in questa piattaforma non ci stanno tutti eh però sarebbe stato bello sicuramente in prossimi webinar che faremo magari inviteremo anche altre persone così che magari potreste potrete un po' alla volta conoscere un po' tutti perché ognuno ha un po' la la sua esperienza e il suo come dire la sua evoluzione però questo oggi ci sembrava così interessante invitare ehm alcune persone le prime due che io vado a a presentare adesso sono due persone che sono con noi da tanti anni una di queste addirittura io la conosco da per perché ci siamo conosciuti tramite gli Artforex quindi questa persona è venuta a fare i corsi con noi da eh dodici anni probabilmente dodici anni dal duemila e dodici da dodici anni l'avete già conosciuta l'avete già vista l'avete già anche avete eh visto il modo in cui fa trading perché questa persona ci ha mostrato in alcune live addirittura i suoi estratti conti ci ha fatto vedere veramente proprio è andata nell'intimità no del che non serviva però lui ha voluto e quindi noi lasciamo estrema libertà poi alla persona e questa persona che adesso io invito qui e che aggiungo al palco eccola qua è Pier Carlo Saracco. Ciao Pier. Buongiorno. Che presentazione. Buongiorno Pier benvenuto. Ottimo della presentazione ti ringrazio. Adesso adesso parleremo un po' anche con te ma prima di andare nel nel come dire nel cuore e vedere magari anzi eh dico già le persone che sono qui che noi adesso discuteremo un po' e faremo delle domande ma se avete qualche domanda qualche curiosità riguardo appunto alla loro esperienza guardate non c'è modo migliore eh di parlarci insieme qui insieme assolutamente chiedete chiedete fate domande anzi ora è il momento per fare le domande ma oltre a Pier vogliamo presentare anche l'altro? Eh beh certo è certo infatti l'altro l'altro sei partito subito la grande con Pier però ora vedremo un altro eh non è da meno l'altro perché è vero che ci conosciamo da un po' meno rispetto a Pier però è sempre tanti anni anche lui penso che stiamo a sette anni adesso sono sette otto anni comunque anche con lui quindi è venuto a fare anche lui come poi con Pier insomma vari percorsi prima pre accademia quindi sia da un punto di vista proprio eh one to one con me quando c'erano ancora le coaching one to one che io facevo nel mio vecchio ufficio poi attraverso ovviamente tutta la parte del platinum e poi attraverso i corsi dal vivo sul mindset i corsi dal vivo anche non sul mindset quindi diciamo che anche lui ha percorso con noi buona parte di questi ultimi anni nel trading e ci sembrava doveroso invitarlo come una delle prime scelte in questo draft che è Massimo Groblekner che aggiungo anche lui al palco e che salutiamo ciao Massimo buongiorno buongiorno a tutti e grazie anche per per l'occasione è interessante poter esprimere anche le considerazioni di un anziano e un vecchio no un vecchio inteso come come il forex dai eh voi probabilmente siete anni sì esatti siamo conosciuti nel duemila e diciasette no? duemila e diciasette sì bello bene 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 Ardu scusa prima di partire con loro due c'è qualcuno che è preoccupato per Damiano per le condizioni di saluto di Damiano e quindi state tranquilli Damiano è vivo guardate ha pure scritto ha pure risposto quindi diciamo che abbiamo deciso di non invitare Damiano perché lo trovate ogni settimana il giovedì fa vedere addirittura anche i risultati che sta ottenendo il come li sta ottenendo il suo percorso quindi eh già lo state un po' conoscendo sicuramente poi insomma ci sarà modo per reintervistarlo in altre live in altri webinar però insomma oggi avevamo e dovevamo per forza lasciare fuori qualcuno perché ripeto non potevamo prendere tutto il mondo eh abbiamo deciso di tanto anche se è sempre in backstage quindi è tipo no io e Damiano anche quando non ci siamo in realtà ci siamo quindi attenzione va bene vogliamo partire che dici Ardu vogliamo iniziare a fare qualche domanda a questi a questi nostri amici ospiti accademici io partirei proprio da Piercarlo se tu dici sì assolutamente sì Anto assolutamente sì allora una domanda abbastanza aperta Ardu la faccio io dai noi ti abbiamo già visto su questo diciamo sul canale YouTube alcune live che abbiamo fatto alcune c'erano anche io e abbiamo visto insomma tutta la cioè più volte raccontata la tua storia però magari oggi c'è qualcuno che non ti ha mai visto e quindi ti chiedo proprio di partire così da quando tempo conosci Alforex che cosa hai fatto all'interno di questa organizzazione di Matti che ha deciso di fare questo diciamo questo percorso che nel proprio percorso personale ha inserito anche altre persone allora conosco dici un po' dici un po' come la tua sì conosco Alforex dal 2012 sono entrato così quando si faceva ancora la semplice FTV per cui ero addirittura prima con FX Insider tu FX Insider esatto sì prima dell'FTV ho effettuato tutti i corsi che abbiamo fatto e anche le vacanze come si chiamano Sardegna abbiamo fatto tre importanti eventi insieme e poi ho iniziato il percorso del mindset che è stato un po' quello che mi ha un po' fatto fare un salto un salto di qualità e soprattutto consapevolezza per quello che avrei voluto fare da grande se vogliamo perché avevo delle idee che non erano molto ancora concretizzate non avevo ancora ben messo fuoco se volevo fare questo lavoro se lo volevo tenere solo come aggiunta ad altro lavoro che avevo fatto intanto io ero già uscito dal mondo del lavoratore dipendente nel 2013 per cui cercavo un pochettino di trovare una soluzione di un po' imprenditoriale per continuare a fare un po' la mia strada professionale quindi avevo in mente tante cose ma confuse quindi scusami Piercarlo sei diventato imprenditore no? hai fatto il percorso l'imprenditore poi dopo che non era quella strada che ho scoperto di voler fare ero un lavoratore dipendente poi c'è stata una certa crisi sul settore per cui sono uscito con famosi bonus aziendali e ho cercato di fare qualcosa di mio che era un po' quello che era nella mia nella mia i sogni del cassetto un pochettino e ho trovato in Airforex un modo per realizzarmi semplicemente non proprio subito perché poi ci sono state molte 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 cose che sono venute nel mezzo Airforex non era ancora quello che è adesso non avevo ancora tutti gli strumenti per maturare, crescere il punto è venuto effettivamente poi con i corsi che ho fatto che mi hanno dato modo di capire veramente cosa potevo fare le mie capacità e le mie possibilità sia a livello finanziario ma soprattutto a livello di mindset e ho cercato di sfruttarlo perché ho capito che questo era forse lo strumento adatto per cercare di realizzarmi in quello che volevo fare che era poi questa vita qua però avevo paura a dire di poterlo fare perché non mi sentivo sicuro, non mi sentivo preparato, non avevo basi, non avevo nulla e avevo soltanto così un'idea, un sogno che poi nel mentre ho aperto un'attività che non ha avuto il riscontro che avevo pensato che adesso ho chiuso insieme ad altre persone ma questo qui fa parte un pochettino del passato prossimo proprio dettato dalla volontà di creare qualcosa di mio, di svilupparmi e ben presto ho capito che poi in realtà il modo per fare questo progetto era quello di entrare in Airforex e di proseguire in quello che sto facendo meglio alla fine ho visto che quello con cui avevo la migliore rendita era proprio sul trading e non su altre attività quindi scusami se ti interrompo, andiamo a step quindi tu praticamente hai fatto, con Airforex lo sappiamo, abbiamo fatto tutto tu poi hai fatto anche, che ti ha dato quello switch, è molto importante soprattutto sul focus, i corsi al vivo che tu poi tra l'altro con quelli sul mindset dell'autoconstruzione del trader che vi ho fatto vedere prima nella pagina con Antonio che hai ripetuto tra l'altro più anni tra l'altro insieme a Massimo, poi vedremo anche con lui ma ecco, bene hai fatto, quindi avevi iniziato le competenze tecniche ormai le stavi acquisendo magari nel mentre può essere, ti sei un po' perso anche su altri corsi, su altre cose all'inizio, all'inizio ho avuto modo di andare a vedere altre cose perché come a volte spesso dice Antonio andiamo alla ricerca di quello che ci dà subito la soddisfazione il fattore magico, l'expert advisor che ti dà i soldi subito il sistema, quelli che guadagni 7.000 euro in settimana e a volte ci sono, ci ho anche creduto perché alla fine siamo, cioè prima di avere mi mancava quella conseguolezza che invece ho avuto nei corsi che poi ho fatto quindi poi, scusami Pia, quindi poi facendo questi corsi sul mindset anche chiamiamoli corsi sul mindset, poi adesso hanno un nome dell'autoconsapevolezza del trader ma così ci capiamo quelli dal vivo tu sei riuscito a, avevi acquisito un po' di competenze noi avevamo dieci anni che eravamo però non eri ancora riuscito a metterle bene in ordine e a crederci davvero, no? attraverso questi corsi tu hai fatto uno studio poi introspettivo ti sei, no? hai creato questo miglioramento e lì hai capito che forse la strada mi sembra di capire esattamente così, lì ho capito qual era la mia strada quali erano le mie volontà cos'erano le cose che non servivano che erano la maggior parte delle cose che ero avvolto da cose inutili ero avvolto da credenze che non mi hanno aiutato da persone che non mi sono servite tutta una serie di cose e veramente, soprattutto negli ultimi corsi ho fatto veramente piazza pulita su tutto il cuore e poi lì, Pier, hai deciso di quindi fare che cosa? di fare un passo importante mi sembra cioè hai iniziato a partire in reale, no? sì, ho deciso di crearmi un mio metodo ma no, hai sbagliato il mio metodo perché non vorrei passare delle informazioni che non ci sono ho visto che il metodo di Airforex mi piaceva molto perché stava nelle mie corde stava nel mio modo di operare e ho voluto però un po' estenderlo in modo da poterlo rendere proprio un'attività ti sei fatto un vestito su misura con il metodo di Airforex, diciamo sì, mi sono fatto un po' una tecnica l'ho personalizzata l'ho personalizzata e abbiamo visto un pochettino nei video che abbiamo passato un po' di tempo fa e ho visto che era cosa buona ho visto che funzionava ho visto che era assolutamente ed è la prima volta in vita mia che qualcosa che ho fatto io era veramente funzionante e questo mi ha dato veramente una grande spinta quindi scusami sempre se ti interrompo Pier faccio a passi perché siccome siamo anche parecchi così diamo spazio un po' a tutti allora quindi dopo questa fase tu comunque stavi facendo trading eri comunque sei un platinum perché sei lifetime quando ancora c'erano quindi rimani nella nostra community stai facendo tutti i corsi dal vivo stai facendo trading in reale non hai più la tua azienda no stai facendo quello stai andando bene l'abbiamo visto ce l'hai detto stai andando bene ma l'anno scorso parte l'accademia quindi arriviamo proprio cosa succede? parte l'accademia e tu non ti iscrivi esatto avevo avevo un po' qui c'è stato un po' una una avevo inteso in modo diverso cosa poteva essere l'accademia l'avevo più vista per magari persone persone neofiti che volevano approcciarsi per la prima volta e ho pensato che magari non potevo anche non averne bisogno e poi nel tempo invece ho capito che il mio metodo quello che io sto utilizzando mi aveva un po' un po' defocalizzato nel tempo cioè mi aveva un po' troppo personalizzato e quindi avrei fatto delle cose che erano un po' più si stavano distanziando un pochettino da quello che era il metodo pur utilizzandolo vuoi anche perché alcuni concetti vengono un pochettino dimenticati ovviamente non ripresi venivano un po' lasciati così e alcune cose ho visto anche nei video anche durante gli incontri giornalieri che facciamo che alcuni concetti si stavano distanziando per cui ho pensato che era bene riprendere il mio focus perché visto che è una cosa che ci tengo molto utilizzare questo metodo mi stavo un pochettino allontanando avevo ho avuto anche modo di fare dei gruppi con altre con altre persone che mi hanno dato la conferma che mi stavo allontanando pur volendo rimanere su questo perché mi stavo approcciando su metodi un pochettino differenti quindi rispetto no Pier rispetto a avevi il metodo di Airforex e l'avevi un po' personalizzato però non l'avevi stravolto avevi messo un po' il tuo vestito avevi magari messo un centimetro di più nelle spalle bene però non era stravolto ti stavi un po' stravolgendo allontanando e cosa è successo quindi poi allora ho pensato che mi mancava il metodo perché ho visto che avevo avevo delle lacune ma mi mancava qualcosa che mi stava un pochettino allontanando e sapendo che questo metodo è sempre andato bene ho pensato che dovevo riprendermi per rifocalizzarmi così come ho fatto col mindset così come ho fatto nel mio percorso anche sulla tecnica ho voluto rifocalizzarmi un attimo e riprendere in mano quello che è veramente la dottrina pur rimanendo nelle mie personalizzazioni però avendo più consapevolezza di quello che è il metodo puro che su alcuni concetti ho visto che avevo dimenticato avevo dimenticato molti passaggi addirittura anche sulle piccole regole che può essere la FDV ma soprattutto sulla struttura ho notato che sulla struttura avevo qualche qualche lacuna per cui ho pensato che riprendere il metodo sarebbe stato assolutamente positivo e la seconda cosa che forse non è del meno importante è il fatto di appartenere sempre al gruppo su cui ci si crede abbiamo parlato molto nell'ultimo incontro con Antonio sul mindset qual è l'importanza di appartenere a un gruppo e crederci a questo gruppo e poi nel trading no Piercarlo possiamo dire un po' a tutti tutti ormai qui penso che chi ascolta un pochino se siamo qua è perché o il trading lo abbiamo fatto lo facciamo lo vogliamo fare avrete capito che è un lavoro che può diventare molto solitario e questo diciamo insomma può essere può essere deleterio per certi aspetti quindi appartenere a un gruppo di persone che lavorano in linea generale con una stessa identità di metodo di approccio di stile è ovvio che permette di a parte di divertirsi di più in quello che si fa ogni giorno perché ci si incontra e il rapporto umano comunque è sempre piacevole ma poi perché c'è anche a livello proprio di trading c'è l'idea c'è chi magari dà uno spunto c'è chi magari fa riflettere su una determinata situazione e quindi diventa anche migliore poi c'è migliora il gruppo le trading room come dicevo spesso sono sempre state ci sono sempre esistite una volta erano fisiche perché l'online era ancora un po' agli albori oggi sono online e quindi è anche più facile trovarsi ogni giorno come facciamo noi anche da parti distanti del globo e dell'Italia per noi quindi diventa diventa super quindi concludendo un attimo così poi passiamo a massimo tu Pier quindi hai fatto il tuo percorso già facevi trading reale già anche con un buon capitale è chiuso anche comunque l'azienda hai avuto come dire l'umiltà o comunque quel sei un attimo hai detto beh però se io mi sto siccome mi sto allontanando un po' forse un po' troppo un conto da personalizzare un conto allontanarti hai deciso poi qualche mese fa di ritornare e utilizzare il metodo e utilizzare questo per quello che dico ho capito cosa voglio fare da grande anche se sono già grande ma per rendere perché questo è la mia strada poi per per sempre cioè voglio che sia questa ormai ho finito di cioè arriva a un certo punto della vita che devi anche cercare di capire veramente quali sono le tue scelte ecco io l'ho fatto questa scelta qua e in questi primi mesi Piercarlo di Accademia è vero che tu sei proprio qualche mese quindi stiamo cosa vedi qualcosa già puoi dare qualche spunto ho già scoperto che le mie aspettative si stanno concretizzando nel senso che quello che a me mancava sta venendo fuori rileggendo ristudiando di nuovo perché è molto bello rimettersi in gioco di studiare è un'emozione molto forte che non avevo più da molti anni perché è tra un po' arrivi agli esercizi a Pier sì assolutamente ed è bello riscoprire e trovare quelle che sono il bello della conoscenza dell'imparare di nuovo e soprattutto di essere posti in un gruppo in cui sei se in qualche modo hai delle scadenze hai delle metodologie determinate è molto bello è molto bello perché noi siamo in continuo rapporto diciamo poi ovviamente dipende anche dal momento che la persona sta vivendo però c'è il momento degli esercizi c'è il momento alcuni webinar che sono super approfonditi perché perché chi è in accademia già sta facendo i moduli del corso in più fa gli esercizi gli webinar sono proprio vum sono verticali andiamo in profondità pesante adesso non so se probabilmente vedrete anche degli webinar già fatti perché ovviamente nell'area riservata poi mettiamo tutti anche gli webinar già fatti vedrete come siamo andati in profondità e quelli che faremo poi ancora quindi la cosa bella dell'accademia è che in effetti è un one to one continuo però è un one to one stando nel gruppo fatto molto molto bene allora intanto io ringrazierei Piercarlo ma stiamo qua Piercarlo perché magari c'è qualche domanda in più però io adesso no Anto penserei anche a Massimo perché poi ne abbiamo ancora di persone che assolutamente sì Massimo diciamo che più o meno lo stesso discorso di Pier raccontaci un po' insomma del tuo percorso ci conosciamo da anni perché come Piercarlo sei stato praticamente siete stati i primi ad approcciare ai percorsi mindset che noi in maniera del tutto sconsiderata nel 2018 abbiamo iniziato a mettere diciamo in questo in questo mondo dove fino a quel momento onestamente c'era c'era solo discorsi tecnici al massimo si parlava di strategie di money management diciamo qualche che cenno ma non in profondità che cenno però insomma onestamente in maniera approfondita come l'abbiamo poi strutturato noi questo tipo di come posso dire di importanza a questo fattore che riveste un fattore principale come gli altri quindi come la tecnica e come il money management noi parliamo dei tre pilastri e quindi Massimo è stato uno di quelli insieme a Pier che dal primo momento hanno diciamo hanno deciso di affrontare questo tipo di percorso ma dici tu Massimo io inizio nel 2016 inizio in realtà avevo questo desiderio di imparare a fare trading ma già nel passato mi era arrivata questa cosa però avevo poi abbandonato perché erano altri tempi ci volevano anche ci vuole un capitale anche notevole per parlo del 96-97 non c'erano gli strumenti che ci sono oggi nel 2016 inizio con autodidatta io pensavo di poter imparare ed apprendere da autodidatta e c'era già qualche video si trovava qualche cosa e poi ho seguito più l'analisi tecnica come sistema perché era quella che si trovava anche più facilmente da autodidatta e 2017 conosco Arduino l'avevo l'avevo visto probabilmente in un penso in una serata di IG o in un video di IG però già da subito mi è piaciuto il metodo mi piaceva il metodo che veniva utilizzato in un'occasione sono proprio venuto dal vivo che è poi dove ci siamo conosciuti nel 2017 a Bologna e poi da lì ho iniziato tutto il percorso perché ho fatto la coaching tutte le coaching in ufficio e ho seguito tutto il percorso perciò dal 2017 io posso dire seguo il metodo Airforex ok perché comunque è il metodo che ritengo più adatto anche al mio al mio tempo perché io lavoro però con questo metodo mi permette anche di gestire il lavoro ma anche di seguire il trading arriviamo all'accademia arriviamo all'accademia perché io comunque forse Massimo fai un passo indietro arriviamo al fatto che sei stato il primo con Pierre e altri pochi altri prima di andare all'accademia hai fatto i percorsi dal vivo sul mindset grazie grazie infatti io stavo mettendo infatti ecco 2018 cosa per me interessatissima stavo dimenticando una cosa importante ma l'avrei ripresa successivamente Airforex decide di proporre corsi un corso di mindset io su questo ero molto interessato perché fin da giovane avevo iniziato ad approfondire tutte quelle che erano le tematiche della conoscenza della crescita della consapevolezza perciò per me il mindset era qualcosa che andava ad aggiungere per integrare quello che già che già avevo iniziato come percorso poi prospettato all'interno del trading mi sembrava una cosa molto interessante anche perché nel frattempo notavo le difficoltà del trading che c'era nel trading che non ritenevano non ritenevano forse più tecniche ma più mentali tra l'altro parliamo massimo di tempi periodi dove la parola mindset non era così inflazionata come negli ultimi anni nell'ultimo anno anno e mezzo quindi adesso si sente molto di più ma nel 2018 sì c'erano tante altre parole ma non veniva trattata come nel 2018 Antonio questa persona che ho qua a fianco mi ha detto no psicologia del trading non è quella roba lì è il mindset ok faceva il mindset e in effetti poi anch'io ho capito perché io usavo più terminologie magari sbagliate poi capendo meglio invece quali erano quelle corrette e quindi questo mindset però in effetti ti ha dato sicuramente uno switch anche quello certo perché lì quando mi è stato proposto io ho detto sì ho detto ci sta io partecipo e nel 2018 eravamo io e anche Pier poi altri ma i pionieri con il forex di questa di questa che penso che non c'era nessuno al tempo che associava il mindset che poi attenzione non associamo al trading ma un percorso come quello che facciamo che anche io ho ripetuto praticamente tutte tutte le le sessioni che abbiamo fatto aiuta anche a livello personale e professionale io lo uso per il lavoro che faccio utilizzo molto le tematiche che ho imparato che conoscevo le ho integrate con quelle che ho imparato da Antonio fra l'altro io Antonio ho detto più volte che ho unito anche tanti puntini rispetto alle mie esperienze perciò è un percorso come il mindset che serve anche anzi a livello personale prevalentemente poi lo riesci a trasferire sul trading ascolta Massimo chiuso questo stai continuando e hai continuato a fare questi corsi tu domanda già facevi trading non facevi trading eri in demo eri in reale in questi mesi dove tu in questi ultimi due tre anni dove comunque facevi percorsi sul mindset ormai la parte tecnica la stavi acquisendo eri in lifetime sei in lifetime quindi comunque stavi nella community da qui cosa facevi quindi io sono andato in reale quasi subito sbagliando giusto sbagliato non lo so ma ho una certa il fatto di aver già fatto dei percorsi mi aiutava avevo già un certo chiamiamolo controllo o autogestione perciò sono sempre stato molto attento a andare in subito in reale però con molta molta attenzione cioè nel senso avevo già anche un mindset ma anche un money management attento ecco su questo voglio precisarlo non ho fatto buchi ecco nel senso che però mi sento che molti che iniziano in effetti si buttano senza nessuna competenza nessun studio e magari poi bruciano soldi sono un po' così non è non è scontato quello che hai detto comunque è vero che comunque tu ti sei subito iniziato a formare non è che hai forse anche perché appunto tu avevi già una forma mentis tua di un certo tipo no? e quindi ti ho iniziato a cercare la formazione anche sì 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 e allora in realtà io ho iniziato autodidatta poi mi sono reso conto che non poteva funzionare da autodidatta e infatti ho intrapreso i corsi con con Careforex questo sì però diciamo che il fatto mio di aver iniziato subito in reale dipendeva anche da me perché io avevo bisogno di fare quell'esperienza ok però qui entriamo in un concetto un po' più mindset no va bene ecco però bisogna fare molta molta attenzione quando si inizia subito in reale perché può essere pericoloso certo assoluto come tutte le attività no? andare subito come ascolta quindi faccio sempre un po' di unisco faccio sempre un punto è a capo perché sennò quindi detto questo tu già un po' tradicchiavi da qualche mese poi noi l'anno scorso ad aprile abbiamo deciso di appunto far partire l'accademia e anche tu come Pierra non hai subito deciso anche se con voi erano forse le persone che poi tra le persone con cui ci conoscevamo da più tempo forse anche per questo perché comunque avevate già adesso mi spiegherai tu non hai subito deciso di entrare in accademia ma hai voluto attendere magari anche non era non era certo che tu entrassi però hai voluto all'inizio non sei entrato allora spiegaci il motivo e poi il motivo per cui invece magari hai deciso poi qualche mese fa invece di fare questo passo certo ma allora io quando mi è stata presentata l'accademia ho avuto adesso passatemi termini un certo rifiuto sono andato come un po' in tilt perché non riuscivo a comprendere perché io che avevo fatto tutto questo percorso dovevo intraprendere non vedevo un valore aggiunto cioè proprio dico ma perché devo fare l'accademia ero un fusca ero io adesso con il senno di poi mi vedevo mi vedevo ero fuscato non riuscivo a comprendere tant'è che noi abbiamo fatto il testing io e te abbiamo fatto il test d'ingresso e mi ricordo che infatti la tua risposta è stata bene dopo il test d'ingresso non voglio entrare perché non vedo il valore aggiunto è stato così proprio se vado a vedere quel messaggio dove ero no ma adesso arrivo al punto perché ci sono stati degli elementi che mi hanno portato appunto a rispondere così perché io in realtà avevo già deciso di intraprendere tutto io ho tutto il ho tutto ho il materiale ne ho materiale io avevo già deciso di ricominciare come avevo già fatto a rivedermi tutto il materiale attenzione rivedermi il termine questo è molto importante allora io avendo deciso già quel percorso ma perché devo fare l'accademia quando posso andare a rivedermi i percorsi che ho già tutto perché ho il mindset ho il tutto il percorso di tutte le tutti i webinar ho tutto essendo lifetime ho detto perché in quel momento fra l'altro devo anche aggiungere che avevo cambiato lavoro e ero anche un poco lucido perché ero molto impegnato sul lavoro e non riuscivo però avevo un obiettivo io non vivo di trading però io avevo l'obiettivo di arrivare lì ho l'obiettivo di arrivare lì mi ero reso conto di aver fatto delle scelte diverse che mi allontanavano in realtà dal mio metodo però non avevo ancora deciso io sentivo che non avevo deciso cosa fare riguardo l'accademia ad un certo punto non mi sentivo comunque soddisfatto e a fine 2023 quando fra l'altro per me 2023 è l'anno che ho chiuso in positivo ripeto non vivo di trading per me positivo vuol dire non aver perso nulla perciò vuol dire aver fatto quello switch fatto quello switch e lì mi sono anche reso conto che non ero ancora soddisfatto e forse anche il periodo di dicembre un po' tranquillo più rilassato anzi sicuramente mi sono preso del tempo ok e lì ho deciso di mettere da parte l'arroganza e di dire che comunque è vero che avevo chiuso un anno in positivo ma è anche vero che non potevo avere la pretesa di sapere tutto e ho deciso di mettere in atto un momento di umiltà e dire se ho scelto questa strada decido anche di intraprendela e di continuare perché ritenevo che il solo perché poi dal dicembre ho deciso di approfondire e capire realmente cosa mi poteva restituire l'accademia perché non l'avevo fatto non ero andato nemmeno ad approfondire quello che l'accademia mi poteva dare e in effetti dopo l'approfondimento di dicembre mi sono reso conto che io avrei solo voluto rivedere i corsi ma non era la stessa cosa no e qui mi collego al fatto che da gennaio ho iniziato l'accademia e nei quattro mesi perciò che sono iscritto mi sono reso conto di qual è realmente il valore aggiunto dell'accademia un conto è ripetere un percorso che tu hai già fatto e puoi vederlo cento volte e va benissimo perché la ripetizione va benissimo però un conto è aggiungere alla ripetizione anche una sorta di valutazione controllo su quello che fai prima parla di one to one secondo me l'accademia è un one to one perché gli esercizi fai esercizi e ottieni una valutazione di come hai fatto l'esercizio senza questo non è semplice arrivare ad avere conferma se quello che hai fatto è incorretto ok sul metodo che hai deciso ovviamente di seguire l'accademia in effetti è un continuo nella prima parte così spieghiamo è un continuo correzione di alcuni esercizi che sono proprio in un programma di studi che voi avete attraverso delle coaching che fate con Anto e che vi dà il programma di step by step e poi io le vado a correggere nel momento in cui abbiamo corretto tutto che avete mandato per un po' di settimane il piano di trading settimanale tutto sembra quadrare a livello di competenze tecniche a livello proprio del grafico si va a fare poi una prova quella prova anche quello è un test per capire se in effetti tutto quello che abbiamo detto nei mesi scorsi che a me negli esercizi sembra buono sembra chiaro sia poi in reale nel momento in cui ci mettiamo davanti un grafico e provare a capirlo se veramente è così quindi anche lì c'è un altro test chiamiamolo così di valutazione come hai detto tu cioè di capire se veramente sei adatto adesso a fare la fase diciamo più esperienziale che come dicevo prima per quasi tutti è una demo per alcuni diventa già subito reale perché è anche poi una responsabilità di Airforex dire bene per me tu sei adatto adesso a fare la parte pratica addirittura poi alla fine della parte pratica demo noi dobbiamo attestare se la persona può potrebbe quindi gli diamo l'attestato di trader consapevole che vuol dire che attesta il fatto che per noi può andare anche ad aprire un conto reale e fare trading reale quindi comunque c'è una responsabilità di base anche da parte nostra è ovvio che se noi siamo stati 18 mesi insieme abbiamo fatto gli esercizi ci siamo visti ai corsi dal vivo ci siamo visti durante gli webinar abbiamo fatto svariate coaching perché poi durante la parte di demo o di trading reale dipende un po' dalla persona noi ogni 4 5 6 trade ci si rivede in coaching e si valuta un po' come si è fatto si fa una chiacchiera si guarda questa operazione come l'ho gestita il paracadute la portazione in profitto la portazione in perdita cioè è un continuo no? adesso voi siete ai primi mesi quindi ancora però ci sarà una continua no? e c'è una continua interscambio per arrivare poi al momento in cui si va addirittura proprio in reale e poter dire beh adesso se tu hai fatto tutto questo percorso così me l'hai mostrato se tu in reale fai le stesse cose quindi lo stesso processo che hai fatto prima per me sei abile è un po' come prendere la patente no? fai il test di valutazione a livello teorico vai in autovettura affiancato dalla persona che ti segue della scuola guida quando questa pensa che tu l'esame lo possa dare lo dai se lo passi poi tu puoi andare ovviamente con l'autovettura tu responsabilmente in mezzo alla strada nelle strade e vai a guidare no? perché sai come si fa è un po' la stessa cosa ecco l'accademia diciamo ovviamente adesso però segue un po' questo principio e quindi a noi fa molto piacere che comunque tutti e due che poi vi conoscete da molto tempo anche voi perché avete fatto poi i primi corsi quindi dal 2018 vi conoscete personalmente siete sempre venuti ai corsi quindi vi trovate anche dal vivo avevate anche creato insomma delle vostre chat un vostro gruppo quindi vi siete sempre sentiti il fatto che comunque abbiate deciso di partecipare all'accademia per noi comunque a noi fa molto piacere poi noi ve l'abbiamo detto anche in privato perché intanto è segno di molta umiltà e maturità anche sulla questione di dire su ogni mestiere ma stiamo parlando di trading nel trading non si è mai come dire arrivati io personalmente lo faccio da un po' più di anni di voi e ogni giorno sui grafici sul mercato sulla gestione comunque mi sento che ogni volta metto un tassello in più è ovvio che all'inizio i tasselli sono un po' più grossi e le differenze le cogli più grandi più facili però in effetti io sono arrivato al paracadute due anni fa tre anni fa dopo 15 anni che sono arrivato all'ftv dopo 7-8 anni sono arrivato a vedere determinate cose a fare una watchlist di un certo tipo a cogliere determinate cose non solo del grafico ma anche di me stesso per migliorare non è che le ho colte subito il primo anno il secondo anno il terzo anno quindi è sempre un'evoluzione il fatto che ci si metta in gioco comunque secondo me è il modo giusto di porsi nelle cose e nel trading e un'altra cosa che però chi ci ascolta probabilmente spero la possa afferrare è che chi arriva poi all'obiettivo è che non si perde e quello che si è visto da Piercarlo e da Massimo è adesso arriviamo anche agli altri ma loro che sono un po' da più tempo è che in mezzo a questa miriade di cose di corsi di tecniche di trading intraday di trading multiday di spread trading di tutto quello che vogliamo mettere dentro comunque non si sono persi e grazie penso sia molto dovuto anche grazie ai percorsi sul mindset che avete fatto quindi il fatto di riuscire a rifocalizzare a non perdere l'obiettivo di vista l'obiettivo tutta una serie di cose permette di non perdersi il perdersi io che ho fatto tante coaching a tante persone singole in tanti anni io vedevo che mancava un po' questa focalizzazione il perdersi purtroppo porta a non realizzare l'obiettivo a sapere tanto di tutto nel trading ma poi non saperlo mettere in pratica per fare quello che il trading serve che non è un gioco è un lavoro e quindi poi ci deve portare un guadagno questo è quindi comunque io allora intanto ringrazio Anto non so se hai qualche altra domanda oppure andiamo dagli altri direi andiamo dagli altri anche perché insomma le storie ovviamente di Pierre e Massimo ci hanno ci hanno appassionato perché poi è anche bello nei loro racconti ho rivissuto anche i momenti che abbiamo vissuto insieme è troppo bello da questo punto di vista però in effetti entrambi i messaggi di Pier Carlo e Massimo io volevo sottolineare semplicemente l'aspetto che era normale ed era anche comprensibile che all'inizio questo progetto così strano come l'Accademia potesse anche non essere capito e ci potesse stare perché è normale soprattutto per chi come loro avevano esperienza e può cadere facilmente nel tranello di pensare di sapere e lì effettivamente ci si svantaggia il motivo per cui abbiamo creato l'Accademia non era per creare un altro asset alla nostra organizzazione in termini anche di no abbiamo tolto lifetime anzi la mente in realtà l'abbiamo diminuito il fatturato perché perché è ovvio che a noi ha spostato tantissimo il focus nella nostra attività formativa abbiamo dovuto investire tanto tempo veramente tanto tempo però l'abbiamo fatto con piacere vedendo i loro risultati e in realtà per quello che è stato strutturato proprio perché è fatto one to one non tiene conto della storicità della persona perché adesso noi abbiamo parlato di Massimo e Piercarlo che ovviamente avevano già un percorso ben strutturato però riorganizzato come loro hanno visto all'interno dell'accademia ripianificato e riorganizzato in un certo senso ti conduce quasi obbligatoriamente all'obiettivo che è quello di diventare effettivamente consapevole e di fare tuo un metodo che non è il metodo copiato di Arduino spienato di Antonio ma è molto personale perché ci sta la minima sfaccettatura perché noi non siamo dei sistemi automatici io e te Ardu non facciamo le stesse identiche operazioni sempre sempre successo e sempre succederà perché siamo due persone diverse tu ti chiami Arduino schermo mi chiamo Antonio Inzi e quindi è normale che non vogliamo i cloni noi noi vogliamo cervelli pensanti però pensanti in maniera consapevole e non che agiscono così e quindi e questo è il motivo per cui l'accademia l'abbiamo fatta praticamente dove la persona che si iscrive viene accompagnata per mano dove se ci sono già dei punti forti bene se non ci sono li costruiamo non è un problema certo 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 bene grazie ringrazio personalmente Massimo Pier veramente mi avete dato tanto grazie a voi stavo molto grazie a tutti l'ascolto stavo molto godendo di quello che voi dicevate perché sentire il percorso di crescita che poi le persone fanno e magari noi siamo stati anche funzione per personalmente per me Ardu credo di parlare anche per lui è un target per noi vedere persone che poi riescono a fare delle cose questo per noi è un taglio certo allora ringraziamo quindi grazie allora rimettiamo in backstage ciao ragazzi salutiamo abbiamo visto che non ci sono state domande quindi forse mi hai cacciato Ardu scusami sono pieno di gente mi ha appena bannato Ardu allora io qui invece poi intanto grazie ancora ai ragazzi abbiamo altre due persone queste due persone invece le conosciamo da qualche anno in meno direi più o meno se vogliamo forse più o meno sono gli stessi anni forse due o tre anni anticipiamo già il primo con Fabrizio in realtà Fabrizio buongiorno a tutti ciao Fabrizio 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 era un lifetime perché appena ci ha conosciuto qualche mese dopo subito ha deciso di diventare lifetime e quindi comunque è qualche anno che sta con noi ma in realtà ora presentiamo anche un altro quindi lo salutiamo sì che è Simone che buongiorno a tutti ciao Simone ciao Antonio ciao che in realtà Simone ora sentiremo le loro storie sono praticamente diverse da quelle di Pierre e di Massimo perché Simone in realtà diciamo che tra i quattro è l'ultimo arrivato se fossero più giovani è quello è quello che è arrivato diciamo alla fine nella conoscenza del mondo due annetti no Simone due anni esatto e ora sentiremo raccontaci un po' di te anche Simone da dove arrivi velocemente ovviamente come ti sei avvicinato al trading e poi tutto il resto certo allora io innanzitutto lavoravo nel nel settore alberghiero facevo ristoratore o un ristorante quindi praticamente ero sempre a contatto con tanta gente con tanto personale tanti forni tanta roba tanto 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 ci credo ecco e questa cosa insomma cominciava a darmi un po' un po' fastidio sinceramente non la gestivo più bene e decisi di cambiare lavoro proprio il periodo covid decisi di cambiare lavoro lasciai proprio l'azienda non ne voglio più sapere e entrai nel mondo del dell'emotivari scusami Simone l'azienda era tua quindi tu eri un imprenditore comunque esatto il ristorante esattamente e sono entrato nel campo immobiliare ho cominciato a fare dei corsi piano piano insomma ho iniziato questo nuovo questo nuovo percorso tra questi percorsi c'era anche un percorso sul trading no? c'era un percorso sul trading e mi aveva appassionato in realtà mi aveva appassionato già da tanto tempo però era una cosa che avevo sempre avuto paura da fare perché non la ritenevo alla mia portata sinceramente ok pensavo fosse cosa per persone elette e ho cominciato a fare anche questo corso qua e analisi tecnica più che altro era sviluppato di analisi tecnica però sinceramente non riuscivo a trovare non c'era feeling non riuscivo proprio a partire mi piaceva ma non riuscivo e piano piano guardando su youtube ho visto dei tuoi video che ce ne sono veramente tanti sul canale ma veramente tanti e ho cominciato per circa un sei mesi a seguirti su youtube nelle retrovie sinceramente guardavo video guardavo video e la cosa mi interessava sempre di più il metodo mi piaceva e come hanno già detto i ragazzi prima è un metodo che comunque ti dà il tempo di elaborare tante cose e lo puoi fare anche se segui un altro lavoro quindi è una cosa che è abbastanza fattibile un po' per tutti e dopo sei mesi ho deciso di entrare a far parte del platinum esattamente è stato l'estate del 2022 e niente lì ho cominciato a seguire circa un annetto forse qualcosina di meno arriviamo infatti al periodo di aprile mi sembra dell'anno scorso quando voi avete proposto l'accademia e lì avevo fatto già col platinum devo dire la verità avevo già fatto dei passetti avanti ero già molto contento però non riuscivo ancora a metterci la quadra sinceramente c'erano delle cose sulle quali sì le capivo ma fino a un certo punto e l'accademia mi era sembrata sinceramente mi era sembrata sinceramente il modo migliore per poter andare avanti su questa cosa qua e quindi mi sono fidato ciecamente mi sono fidato ciecamente cioè per me è quello se io volevo arrivare a diventare un trader perché attualmente il mio scopo è quello di diventare un trader no? e diventare proprio come primo farlo diventare come primo lavoro quindi tu immobiliare e trading queste sarebbero le tue asset diciamo esatto in questo momento in questo momento sì però vorrei diciamo accantonare l'immobiliare e vorrei usare utilizzare solamente il canale trading per quello che riguarda perché c'è più flip di denaro invece magari sull'immobile ti resta fermo non è più difficile nel senso la liquidità sul trading faccio un esempio un'operazione va male o bene la chiudi oggi la chiudi la liquidità c'è su un immobile tu lo puoi comprare ma poi dall'altra parte editorale liquidità oggi per come la vuoi tu diciamo no? che poi perdi un guadagno ma la devi trovare esatto e non è così facile no non è così facile ma poi è anche molto più rischioso sinceramente quindi è una cosa un po' più complessa e poi comunque devi sempre avere che fare con la gente perché comunque alla fine sono andato via dal lavoro perché volevo lavorare in solitaria e poi mi sono ritrovato comunque con un lavoro che comunque mi dà la possibilità proprio di svincolarmi quindi il mio scopo è quello di diventare un trader proprio consapevole come lo chiamate voi certo e l'accademia secondo me era il metodo giusto e ho iniziato l'anno scorso il periodo di aprile subito? è stato uno dei primi? sì, il primo no, il secondo penso no, no in realtà voi due siete stati proprio i primi due i primi due ah, io Fabrizio il primo è nascuto infatti anche il numero che avete il codice no? identifica ah, ok ah, giusto è vero è vero ok e niente già dai primi mesi che ho iniziato quest'accademia avevo capito che sinceramente era proprio come si dice lo strumento ecco lo strumento che mi serviva per mettere insieme tutti i tasselli che avevo bisogno insomma e quindi niente io addirittura adesso sono passato a differenza di Piercarlo e sono passato già alla fase 2 e quindi sto facendo il mio percorso esperenziale sulla demo e infatti ultimamente qualche giorno fa mi sembra con te Antonio io avevo fatto la coaching proprio per analizzare i trade che avevo fatto e niente tutto sta andando come deve andare io sono molto contento io ho visto a livello tecnico almeno ho visto dai primi esercizi dalle prime cose ho visto un come dire proprio a livello tecnico sto parlando quindi uno switch da bianco a nero come le candele o da nero a bianco se preferisci però incredibile poi abbiamo fatto la prova tutti l'hanno fatta benissimo la prova tra l'altro quindi vuol dire che questo la prova comunque mette veramente in luce se ci sono delle magari delle mini lacune su cui dovevi andare a lavorare Simone insomma io ricordo che poi ho parlato anche con Anto dicevo è stato veramente incredibile io volevo sottolineare una cosa quando io quando prima di fare l'accademia già logicamente conoscevo Antonio anche sul discorso mindset sapevo dei vostri corsi sul mindset e tutto però sinceramente non gli avevo dato l'importanza che invece gli do oggi ecco questo questo l'ho scoperto grazie all'accademia perché se io non avessi fatto l'accademia probabilmente i corsi sul mindset in prima battuta non li avrei acquistati e non li avrei fatti sicuramente conoscendomi avrei più diciamo sviluppato la parte tecnica perché ero convinto che era quella che poi avrebbe fatto la differenza oggi invece grazie all'accademia perché l'accademia è proprio un pacchetto un percorso dove c'è non c'è solo la parte tecnica si è obbligato anche a fare la parte mindset e si è obbligato anche a gestire il tuo il tuo capitale perché c'è il money management sono anche lì di di che ecco quindi io sono stato obbligato tra virgolette a fare corsi sul mindset ma devo dire che effettivamente la differenza oggi secondo il mio punto di vista la fa il mindset non la parte cioè anche la parte tutto fa la differenza ma la parte tecnica da sola senza il mindset e senza il money management sinceramente non vanno da nessuna parte assolutamente è quello che diciamo infatti ecco quindi io devo dire che l'accademia non hai messo il cognome perché ti chiami Simone Itzi questo è il motivo mi sono dimenticato Antonio qualcuno potrà pensare questo è il fratello forse e dice lo sappiamo benissimo grande Simone sono sono veramente felice di quello che tu hai detto però quello che tu stai dicendo noi lo sappiamo benissimo è il motivo per cui all'interno dell'accademia abbiamo messo obbligatorio perché con Arduino un anno fa con Arduino quando abbiamo messo su il progetto dell'accademia siccome noi in realtà abbiamo i percorsi mindset li abbiamo fatti e lasciati tra virgolette alla scelta della persona che ci seguiva mettevamo anche scontistiche particolari per quelli che erano i platinum piuttosto che i lifetime ma chi voleva sceglieva chi no no parlando con Arduino ho detto le persone che veramente hanno imparato non a caso sono quelle che hanno anche approcciato a livello mindset ci sarà un nesso a questo discorso ok allora facendo questo fatto ho detto a questo punto nel percorso accademia noi non lasciamo più libera scelta ma non perché vogliamo obbligare le persone no è un percorso per tutto ma per dargli uno strumento che loro come proprio stava testimoniando testimoniando Simone in prima persona magari non avrebbero scelto ma invece è fondamentale è importantissimo perché è quello il mindset è quello che crea le condizioni gli strumenti che noi abbiamo a disposizione possono essere usati bene ecco diciamo così ok quindi ecco perché è fondamentale il mindset purtroppo io lo so che personalmente so che è un argomento che non tutti apprezzano o che non tutti vogliono fare perché onestamente è anche impegnativo lavorare su se stessi è molto più semplice riconoscere una PIN che non lavorare su se stessi che riconoscere un qualcosa che ti scatta dentro però se vuoi far lavorare bene la PIN devi controllare te stesso quindi è questo alla grande alla grande grazie Simone per la tua testimonianza adesso parliamo anche con Fabrizio ovviamente a Fabrizio chiediamo la stessa cosa un po' Fabrizio il tuo percorso chi sei e come poi ti sei avvicinato a noi come l'accademia insomma un pochino anche tu che cosa hai fatto insomma allora io il trading l'ho conosciuto diversi anni fa e praticamente con lo spread trading sulle materie prime che mi fece conoscere un mio amico io sono di Viareggio quindi un mio amico di Viareggio e vedi qualche lezione erano lezioni registrate questa cosa insomma magari mi ricordava il film è una poltrona per due dove praticamente tutti i Natali danno però effettivamente era cioè mi piacque era interessante eccetera e quindi iniziai quel percorso lì quelle lezioni lì però alla fine cioè vedevo che ovviamente chi era di là questi erano corsi videoregistrati si parlava di operazioni ma poi in realtà veniva il dubbio effettivamente se poi queste operazioni le facessero e ottenessero qualche magari risultato e operassero realmente tanto che mi ricordo che questi stavano alle Canarie vabbè vinsi un un viaggio e ci andai in realtà affittavano un mobile anziché fare praticamente il trading e quindi il fatto che chi diceva ovviamente di operare facendo il trading e poi in realtà faceva tutt'altro questa cosa mi aveva un po' sdubbiato considerate anche che sapete faccio l'avvocato quindi di cose le vedo e le vedo sempre negative che viene da me è sempre ovviamente persone che sono state truffate e quindi vai sempre sul chi va là per ovviamente per la professione che uno fa e poi acquistai ovviamente dei libri per approfondimento e da quel momento lì ho iniziato un pochino a vedere anche per quanto riguarda il broker con OBG e IG faceva questi corsi mensili che li fa tuttora gratuiti e da lì ho conosciuto Arduino vedi qualche lezione andai a vedere poi su YouTube e la cosa che mi piacque subito vista anche l'esperienza pregressa era prima di tutto che lui operava apertamente cioè ti faceva vedere come operava se un'operazione andava bene andava bene se andava male ti faceva vedere magari anche il ragionamento che aveva fatto e quindi era onesto la cosa che ovviamente ho percepito subito è io faccio questo e tanti anni faccio questa cosa qua e quindi vi faccio vedere come faccio realmente e non vi dico una cosa per un'altra questa cosa a me mi ha dato subito fiducia tanto che io vedi qualche video su YouTube diciamo tuoi per due o tre mesi anche perché poi visto col lavoro magari era impegnato eccetera e poi io comprai subito all'epoca c'era il Lifetime e lo comprai subito immediatamente però poi quando mi sono trovato col Lifetime mi trovai tutti questi corsi che ce n'era diversi quindi col lavoro cioè perché poi c'è un lavoro impegnativo cioè hai trovato queste strade e quindi che facevi facevi una lezione magari guardavi un trigger poi aspetta non ce la fa perché cercavi di essere più operativo possibile quindi di prendere un po' in quella non avevi un percorso stabilito e appena appunto ci fu il discorso dell'Accademia mi ci sono buttato perché quello che mi serviva a me anche perché poi con gli studi universitari c'è sempre un percorso da seguire quindi era anche già un metodo che io ero abituato a questa cosa e devo dire che è stata sicuramente la scelta giusta anche tuttora perché ho bisogno per contemporare un lavoro che è particolarmente impegnativo da essere seguito e importanti per me sono stati e sono anche quando si fa gli incontri dal vivo del mindset a parte il discorso mindset perché anche lì io ho fatto con dei formatori sulla cosa personale ma erano insomma più scenografici che altro questa cosa invece qui si si cercano ad andare nel profondo ma a parte il discorso mindset che effettivamente è essenziale anche per l'area anche per il mio lavoro per esempio anche come ti approccia le persone eccetera però è bello anche perché vedi e sei in un gruppo che poi ci si conosce quindi diventa familiare e vedi persone che fanno il tuo stesso percorso chi è anche riuscito a fare lo switch e cambiare e fare del trading e quindi questa cosa ti dà la spinta capito per impegnarti magari anche in quel momento che per motivi lavorativi eccetera magari hai l'impegno un po' meno e quindi quello ti porta veramente avanti a parte il fatto che poi ogni dubbio ogni cosa deve essere sempre disponibili a rispondere quindi almeno per il lavoro che c'ho io cioè quello ci volevo adesso tu Fabrizio hai concluso la parte della fase 1 quella più teorica di acquisizione competenze sei passato anche tu alla fase 2 quindi anche tu sei in demo hai iniziato da poco da qualche mese e lì per esempio ho avuto ora l'aiuto di Antonio che ho fatto la coach perché io quando mi sono trovato perché sempre abituato al metodo di studio perché nella fase 1 c'avevo il programma quindi mi facevo il programma c'avevo gli esercizi e anche quello mi è piaciuto perché magari facevi l'esercizio e poi te non ti convincevo e me le facevi rifare no e questo avevo fatto rifare c'è stato uno che non so perché ma mi ricordo era quello dopo di massimo sì sì però questa cosa almeno cioè capito ti fa vedere che c'è di là proprio la voglia però quando poi dopo sono andato nella fase demo dove sono ora non avevo più queste lezioni da questo programma da fare e quindi mi sono trovato spiazzato cioè tanto che dicevo ma aspetta ma ora cosa faccio rifaccio ora via da me rifaccio le lezioni ritornavo un po' al mood di prima di quando non ci avevo all'accademia e tanto che mi sono confrontato appunto con Antonio e poi tra l'altro ho visto che forse non ero stato solo io perché poi c'è stato il webinar d'approfondimento sul metodo però anche quella è una guida perché sennò ti riperdevi cioè nel senso almeno riandavi a fare magari un corso capito e poi la fase demo che dice oh sì ho imparato le nozioni vai ora vado un demo no invece c'è tutto il diario del trading il metodo appunto tutto il discorso della pianificazione quindi c'è impari proprio un metodo che è quello che poi devi applicare se vuoi fare il trading quindi su quello poiché tu lo voglia fare come lavoro complementare o farlo appunto in maniera definitiva quello è un altro discorso però acquisisci veramente un metodo a fasi cioè capito e quindi questo per me è stato importantissimo è importantissimo tuttora infatti per esempio non vedo ora ci sarà l'incontro la prossima settimana che ci vediamo a Bologna per me sarà vedo la DSC perché mi ridà la spinta capito perché ci si ritrova quindi è una bella occasione a parte che Antonio ci massacra con le ore che ci fa fare di 12 ore 12-14 ore però a parte quello a parte l'aspetto fisico quindi il resto il resto è una cosa no ritrovo piacevole su tutti tutti gli aspetti e poi ti porti sempre a casa qualcosa di utile che io li ritrovo poi li faccio sul lavoro per esempio anche la pianificazione il famoso rallentare che si dice cioè sono cose che ti trovi in tutte le cose anche nel training e magari quando c'hai poi un momento di difficoltà ti ricordi di quelle cose le applichi e quindi il metodo è io posso dire che è ottimo sicuramente è ottima anzi la continuo molto 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 con piacere grande grazie anche grazie anche a Fabrizio allora ringraziamo anche per avere insomma essere stati con noi sia Fabrizio che Simone grazie a voi vi riportiamo in backstage perché abbiamo qualche altra cosina da dire prima di concludere in realtà quindi ciao grazie Simone e grazie a tutti ciao a te grazie grazie per eccoci qua allora io prima di andare tra l'altro dimmi dimmi prima di andare alla novità di questo perché adesso noi siamo arrivati a un'ora e dodici però c'è una novità che noi vogliamo dirvi riguardo l'accademia perché tra l'altro è vero che siamo qua abbiamo ascoltato le cose però dopo un anno abbiamo capito che ci poteva essere una cosa interessante da portare diciamo però prima di arrivare lì io ho visto che ci sono dei commenti che mi piacerebbe leggere magari rapidamente perché poi la inviteremo però mi fa molto piacere quello che ha scritto addirittura qua la piattaforma mi dà la possibilità di invitarla nello studio però leggiamo e basta perché se no la live dura due ore e poi diventa un po' pesante anche perché probabilmente poi questa qui andrà anche su YouTube nei prossimi giorni quindi non voglio che diventi proprio troppo estenuante però mi va di leggerla Anto Alice che fa parte della nostra community però fa parte anche dell'accademia quindi non solo del Platinum prima e poi è entrata anche lei in accademia e ci ha scritto un bel papiro allora io lo vorrei leggere qui con te Anto per poi ringraziarla Alice dice voglio condividere con voi la mia esperienza riguardo lo studio del trading con l'accademia di Schenato di Airforex insomma di tutti noi che ho trovato incredibilmente formativa dal punto di vista tecnico psicologico e pratico anche per la vita di tutti i giorni partecipare a questo corso non solo ha arricchito le mie conoscenze specifiche sul trading ma ha anche contribuito a rendere la mia vita più sicura consapevole e positiva trovo che le competenze acquisite siano estremamente utili anche in tutti gli aspetti della quotidianità permettendo di interpretare la vita con molta più sicurezza vorrei sottolineare l'importanza di avvicinarsi a questo percorso con umiltà lasciando da parte ogni desiderio di denaro facile e concentrandosi invece sull'ascolto attento e sull'applicazione costante determinata delle istruzioni fornite dagli insegnanti da noi è proprio questa disposizione mentale che ci permette di trarre il massimo beneficio da questa esperienza formativa per questo motivo vi incoraggio a partecipare a questo indirizzo di studio perché sono certa che ne trarrete benefici sia personali che professionali con l'augurio di future e ottime operazioni un caro saluto da Alice Federle Alice hai scritto un qualcosa di estremamente bello di estremamente anche supportivo nei confronti di chi magari sta ascoltando o ascolterà questo webinar perché in effetti hai dato comunque il tuo grande contributo anche tu da utente dell'Accademia ma ti chiameremo ne faremo degli altri di questi quindi ci sarà la possibilità assolutamente sì io però ci tenevo a dire anche a questo riguardo bellissime le parole di Alice come d'altronde di tutti gli altri Fabrizio Simone Piercarlo Massimo lo stesso Emanuele qua che condivide che sono tutti dei Damiano allora è vero è vero che il percorso è valido perché noi ci abbiamo lavorato tanto è studiato è fatto ed è un percorso che abbiamo messo su in base anche a tutta l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni di formazione però è vero anche che anche l'applicazione che ci avete messo voi è stata attrettanto importante perché noi non forniamo ricette magiche noi diamo dei metodi di lavoro poi il lavoro mi ha fatto e quello che ci hanno testimoniato l'avere apprezzato significa aver fatto un lavoro perché uno non apprezza se non conosce quindi e questo è importante quindi vi ringraziamo per i feedback bellissimi però questo ci testimonia che effettivamente vale la pena fare per quanto ci riguarda io parlo per gli Airforex per me Ardu vale la pena l'impegno che ci abbiamo messo perché quando vediamo queste cose e queste testimonianze ci hanno fatto capire che effettivamente questo è il modo migliore perché l'obiettivo iniziale di Airforex non è quello semplicemente di vendere formazione ma è quello di fare formazione e quindi e quindi anche per questo no Anto tanto ho condiviso anche il che ringrazio il messaggio di Emanuele io arriverei al punto finale sì io ho preparato una slide se vuoi dai condividela Anto condividela perché in effetti è cambiato qualcosa e l'abbiamo fatto in questi ultimi questo ultimo mese io e Anto abbiamo riflettuto su questa cosa perché abbiamo visto che a volte ci potrebbe essere un blocco da parte vostra il blocco molto spesso è stato anche il discorso del costo economico ovviamente il costo economico dell'accademia ovviamente questo è il costo diciamo che costa l'accademia costo 7200 euro per quelli che hanno noi sappiamo per chi ha comprato negli ultimi 12 mesi poi dei corsi delle cose comunque diciamo che viene scontato da questo importo però diciamo che questo è il prezzo di partenza per uno che oggi per esempio come un Alice come un Simone dello scorso anno che sono partiti praticamente diciamo dall'inizio diciamo che questo è il costo dell'accademia stessa ricordiamo che nel costo più prima del costo dobbiamo ricordare quello che c'è nell'accademia nell'accademia ci stanno e quindi io prenderei anche questo Ardu se tu dici io prenderei in modo che facciamo capire bene nell'accademia ci stanno tutti i corsi che trovate nel sito quindi che per esempio gli ex lifetime ma anche le persone normali possono comprare singolarmente questi corsi la parte tecnica che si chiama price action naked il bundle di tutti i videocorsi che abbiamo fatto negli anni precedenti è un bundle straordinario questo c'è veramente un sacco di roba 51 ore ore di video poi c'è il mindset digitale che è il percorso mindset che io ho fatto in maniera digitale che è a disposizione che singolarmente le persone possono già acquistare e poi ovviamente anche questo perché a breve andrà a carrello tra virgolette anche il percorso autoconsapevolezza del trader perché abbiamo deciso di aprire le porte dell'accademia da questo punto di vista quella che si fa in aula diciamo e quindi anche persone che non ne fanno parte possono accedere a queste cose però queste poi come diceva prima Fabrizio molto bene sono cose che voi vi prendete e vi fate in autonomia l'accademia poi aspetta lo studente ha accesso anche gratuito come c'è scritto sotto a tutti gli eventi poi esatto e quello è il plus il plus è prima di tutto che chi entra nell'accademia a parte che ha tutti questi corsi quindi non ha necessità di ricomprarli e questi ovviamente ci stanno ma in più il plus dell'accademia è che ci sono 18 mesi se non fino a un massimo di 24 in realtà 24 per chi va un po' fuori corso esatto 18 mesi di platinum se uno fa i conti se si fa i conti e fa il totale di questi percorsi più questo praticamente l'accademia più i 18 mesi praticamente tutto il plus che sono gli esercizi i webinar di approfondimento le coaching che ce ne sono veramente tante noi qui abbiamo scritto svariate perché dipende molto anche dalle persone quante coaching insomma vanno fatte in base al piano personalizzato che andiamo a stabilire proprio all'inizio il piano personalizzato degli studi quindi c'è veramente un valore aggiunto importante e quindi all'interno di tutto questo poi ci sta il fatto che appunto come sottolineavi tu lo studente nel periodo che stanno nell'accademia praticamente tutte le iniziative tutti i corsi in aula offline e online che facciamo sono tutti compresi quindi non è che deve pagare altro quindi c'è il pagamento dell'accademia è per 18 mesi e soprattutto dopo 18 mesi avrà tutti gli strumenti per poter diciamo essere un trader consapevole adesso andiamo però sulla novità perché così non vorrei che le persone poi vanno via hanno visto il costo fatto uno sconto di 1200 euro che sono più del 15% quindi uno può decidere di iscriversi all'accademia e pagare i 6.000 euro una tantum no poi c'è la seconda soluzione che è quella che avevamo già messo dall'inizio che è in tre rate da 2004 che se moltiplicate 3 per 2004 sono esattamente 7200 nei 12 mesi quindi una prima subito una prima rata all'iscrizione quindi 2004 all'iscrizione 2004 dopo 6 mesi e 2004 dopo 12 mesi diciamo ma la novità di cui parlava Ardu è questa nuova modalità di pagamento che potrebbe magari essere funzionale a qualcuno che ha intenzione di iscriversi e che appunto questo c'è c'è un acconto praticamente del 20% all'iscrizione che sono 1440 euro e poi 12 rate da 480 e qui diciamo che se uno si fa veramente i conti capisce proprio il vantaggio di tutto quello che abbiamo detto quello che ci sta e quindi questo diciamo è è tutto ovviamente io voglio dire questo non è un servizio di vendita no è subordinata al test d'ingresso quindi chi di voi fosse interessato non è che ci fa il bonifico e si iscrive all'accademia no c'è un test d'ingresso che attenzione però il test d'ingresso non è che è un test d'ingresso dove noi andiamo a valutare le competenze pregresse delle persone è solo per capire e allineare gli obiettivi che il vostro obiettivo deve essere quello di imparare e il nostro deve essere quello di capire se se ci sono le condizioni quindi il test d'ingresso serve a questo non è uno spauracchio serve a mettere serietà a tutto quello che stiamo facendo ed è una garanzia anche per voi in un certo senso per chi si vuole iscrivere poi c'è una domanda da Giuseppe che rispondo che è questa si possono comprare separatamente i corsi ad esempio acquistare solo pre-section naked e poi successivamente acquistare il resto si e inoltre ci diciamo anche questo facciamo un esempio Giuseppe decide di acquistare price action naked bene compra price action naked nei 12 mesi Giuseppe successivi all'acquisto del price action naked eccolo là nei 12 mesi successivi se tu decidessi di entrare in accademia i 7-2 ti vengono scorporati quindi cioè i 1.800 ti vengono tolti dai 7-2 e tu quindi adesso 7-2 meno i 1.800 sono 6-2 5-2 5-4 5-4 5-4 questi 5-4 poi li si potrà suddividere anche a rate come abbiamo visto e quindi si farà il 20% dei 5-4 che è X che adesso non so dire 1000 qualcosa 1080 euro sì e il restante a rate 12 mesi oppure in tre rate da oppure insomma tranquillamente nei 12 mesi mettiamo un un obbligo dei 12 mesi per andare a scorporare appunto il costo per quale motivo perché non vogliamo che dopo non so una persona oggi acquista pre-section naked e tra 4 anni mi dice ma siccome ho acquistato 4 anni fa pre-section naked dentro in accademia non funziona così funziona che uno è già pronto perché ha acquistato pre-section naked quindi ha appena studiato il corso è fresco di di quello che ha studiato nei 12 mesi può decidere di entrare in accademia perché poi quel corso verrà rifatto in base agli esercizi che vengono richiesti in accademia però comunque una persona è fresca di quella competenza acquisita già singolarmente capito Giuseppe quindi per qualsiasi cosa comunque diciamo Anto che noi siamo disponibili per una call anche one to one io e la persona oppure Antonio e la persona oppure tutti e tre per discutere prima del test d'ingresso nel caso che abbiate anche solo qualche dubbio prima di richiedere il test d'ingresso state tranquilli che basta che ci scriviate su info chioccioliarforex.com e noi sappiate che in realtà anche compilando il form mi sa che qua c'è il form anche compilando il form bravissimo basta andare lì e prenotare la tua consulenza nel senso che possiamo stabilire al di là del test d'ingresso il discorso qual è? è che tecnicamente parlando e per rispondere ancora più nel merito a Giuseppe tecnicamente parlando uno può decidere di comprare i corsi come dicevo prima e farseli autonomamente il plus dell'accademia è che ti indichiamo il percorso con tutto un piano di studi strutturato però i ragazzi dell'accademia non è che studiano su altre dinamiche studiano su questi percorsi anche perché diciamo la verità che se uno acquista il corso oggi poi magari tra dieci mesi un altro poi magari viene i corsi dal vivo un'altra volta poi magari vuole fare il platinum alla fine come vi abbiamo fatto capire spende di più quindi invece in questo modo noi abbiamo creato adesso queste tre situazioni dell'accademia questi tre step possibili di pagamento proprio per dare la possibilità a tutti quelli che veramente decidono che il metodo di Airforex a 360 gradi fa per lui o per lei a quel punto una delle soluzioni secondo noi è fattibile non c'è più il come dire il blocco economico perché anche l'ultima soluzione credo che sia anche perché poi noi siamo molto cioè gestiamo la cosa ci si parla insomma si riesce a gestire la cosa si riesce comunque a fare però assolutamente Giuseppe se anche solo per assaggiare un po' quello che noi proponiamo quello che è il metodo vuoi intanto fare un primo step per esempio del Pisection X o di qualche altro corso lo puoi fare non c'è nessun problema sappi che poi nei 12 mesi puoi entrare scorporando quel costo direttamente in accademia totalmente in tranquillità bene io finirei con salutando salutando tutti mettendo anche insomma in pressione questo messaggio Anto di Davide Lazzarini che anche lui ormai insomma ci conosce da tempo è in accademia che dice e anche lui inviteremo come Alice come Emanuele l'altro Emanuele vi inviteremo non potevamo invitare tutti altrimenti ci dovevamo due giorni qua ma noi vi inviteremo un po' tutti perché vogliamo assolutamente assolutamente l'accademia dice Davide arricchisce le conoscenze e le competenze preparandoti per il mondo reale del trading e non solo posso solo augurarvi che questi incontri possano ispirarvi alla partecipazione come è successo a noi Arduino e Antonio sono persone speciali nella community si creano relazioni importanti anche questo è vero è vero assolutamente confermo e poi Emanuele diciamo che foraggia ancora anche Davide dice anche lui Emanuele lui è nell'accademia anche con lui è un po' in stile Massimo Grobleckner lui venne a fare le coaching con me insomma ci conosciamo da tempo e dice fidatevi sono i soldi meglio spesi un investimento su voi stessi poi li recupererete nel tempo grande grazie anche a te Emanuele sempre gentilissimi e soprattutto insomma veri perché noi non abbiamo spinto nessuno a scrivere quello che hanno scritto a dire quello che ha detto Massimo Simone Fabrizio e Piercarlo quindi assolutamente è stato solo una richiesta di volete dare la vostra testimonianza e loro si sono resi come dire anzi subito partecipi e partecipativi della cosa va bene altro da dire Anto non lo so se c'è qualcosa che ti viene in mente se no possiamo assolutamente no per chi vorrà ovviamente potete chiedere o la consulenza o direttamente il test ingresso metto qui guarda nella chat metto la mail che così info chiocciola questa qui è la mail che arriva lì un'ora poi lei ce la gira quindi non preoccupatevi eccola lì oppure comunque la consulenza sulla pagina sì sì assolutamente sulla pagina accademia c'è la richiesta di consulenza fare due chiacchiere prima non costa nulla anzi possiamo definire meglio ok bene abbiamo fatto grazie allora veramente grazie a tutti quanti i partecipanti e gli studenti corsisti che hanno dato la loro testimonianza e che dire noi ci vediamo alla prossima e ci vediamo come al solito ciao a tutti grazie ciao buon weekend ciao a tutti